Prezzi di luce e gas alle stelle a partire dal 1 luglio. La stangata arriva dall'autorità per l'energia, che ha decretato l'aumento del 6,5% per l'elettricità e dell'8,2% per il gas. Un salasso non indifferente per le tasche degli italiani, già colpite da pesanti rincari a inizio anno. Insorgono le associazioni di categoria, preoccupate per la concomitanza di questi aumenti con il ritorno dell'inflazione. Il risultato, prevedono, sarà di mettere a rischio la fragile ripresa dell'economia a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Gli effetti che produce questo aumento sono negativi, sia dal lato delle imprese per un aumento dei costi delle imprese, che si ripercuote su un aumento dei costi dei prodotti e diminuisce il potere di acquisto delle famiglie e dei consumatori. Non è immaginabile che si possa continuare in questo modo, tuona il presidente di ConfCommercio Veneto Massimo Zanon. Non è accettabile che quando il costo delle materie prime diminuisce i prezzi al consumo non scendano, mentre quando aumenta gli incrementi li evitino in maniera esponenziale. È il mercato all'italiana, gli fa ecco il presidente di ConfTurismo Veneto Marco Michielli, un mercato in cui IVA e Accise incidono per oltre il 60% sul prezzo dei carburanti. Questi rincari costituiscono un pesante aggravio per le famiglie che proprio in questo periodo stanno programmando le vacanze estive e che dovranno fare i conti con un potere d'acquisto decisamente ridotto. Questo è un paese dove la povertà interessa anche chi ha uno stipendio e questa è una cosa strana, cioè una persona che lavora dovrebbe essere in uno stato diciamo non di benessere ma in una capacità di vita normale e adeguata e oggi invece anche le persone che lavorano che hanno uno stipendio potrebbero rientrare in determinate condizioni familiare nelle fasce diciamo di difficoltà e di povertà.